Buongiorno Assessore, l'emergenza continua per quanto riguarda il Covid, è stato un anno complicato? È stato un anno complicatissimo per i stop and go continui, naturalmente dire che si vede la luce in fondo al tunnel è complicato, ma stiamo davvero provando a convivere con il virus e tutto ciò che è stato fatto in questi mesi serve a dire che non chiudiamo più. C'è però anche qualche settore che tuttora soffre come il sistema moda? Il sistema moda ha sofferto sin da subito perché è per noi un comparto decisivo, centrale, più di un terzo del valore della produzione industriale della Toscana ed è molto esposto all'export. Ha cicli molto lunghi per riprendere una ordinaria produzione e distribuzione e ha difficoltà oggi nel avere materie prime, ma è evidente che insieme ai settori produttivi che nel corso del 2021 hanno ripreso a marciare, anche la moda grazie all'export sta riprendendo i suoi ritmi. Occorre sostenere l'innovazione, ma come si fa? Noi siamo una realtà regionale che è forse meno propensa anche per dimensione dell'impresa media e per settori produttivi più importanti, meno propensa all'innovazione rispetto alle regioni del centro nord. Eppure noi abbiamo un sistema del trasferimento tecnologico presente, diffuso su tutto il territorio e quindi noi dobbiamo sostenere interventi di sistema capaci cioè di aggregare di più questi attori del trasferimento tecnologico e provare ad andare noi direttamente in azienda per far stimolare la scelta dell'impresa a investire nell'innovazione. Sostenere le start-up può aiutare? Le start-up innovative sono state anche oggetto di un intervento della regione grazie a una legge del 2020. Sono state 37 quelle aiutate grazie al primo stanziamento di un fondo proprio per dare voce e stimolo alle start-up e andare proprio nella direzione dell'innovazione delle nuove imprese serve a stimolare l'ecosistema del trasferimento tecnologico e l'innovazione proprio nel campo dove noi siamo forse un po' meno vivaci. La Toscana naturalmente ha anche turismo ma dopo la pandemia c'è qualcosa da cambiare? Non è facile stabilire che cosa rimarrà dopo la pandemia nemmeno in questo campo. Non ci sono dubbi però che il turismo ha vissuto e vive momenti difficili. Ancora oggi la città d'arte e tutta quella proposta legata al benessere soffre e soffrirà probabilmente ancora fino a tanto che non riapriranno le frontiere e ci saranno davvero flussi soprattutto dal Nord America importanti. Il turismo sta cambiando e soprattutto verso la valorizzazione dei valori di autenticità, di sostenibilità capaci cioè di rappresentare al turista potenziale la Toscana nel suo volto più vero, più autentico. Questo già si vede nel campo dell'interesse del digitale. Ecco, nella rete la Toscana per esempio è la prima tra le regioni.